Verrà di proposto l'antico percorso che avevano affrontato i piloti nel 1922, il circuito fra Caltanissetta, Enna, Villarosa e Santa Caterina, Villarmosa, durante l'evento Ruote nella Storia, 100 anni di rombi nisseni. 100 anni della Coppa Nissena, stiamo organizzando degli eventi che ci aiuteranno a raggiungere la data del 16 e del 18 settembre, i giorni in cui si disputerà questa gara. Sono tanti gli eventi che stiamo organizzando, si comincerà il 5 giugno con una rievocazione storica della Coppa Nissena organizzata da ACI Storico. L'appuntamento di domenica 5 giugno presentato in conferenza stampa in presenza anche dell'amministrazione comunale sarà il primo di una serie di eventi, tra mostre fotografiche, la premiazione dei piloti siciliani, giornate dedicate alla sicurezza stradale, il convegno, fino allo svolgimento della Coppa Nissena a settembre. E' così che la ACI di Caltanissetta celebra la ricorrenza che ricade nello stesso anno del centenario dell'autodromo di Monza. Abbiamo organizzato una serie di manifestazioni in comune, una sorta di gemellaggio naturalmente con le dovute proporzioni, però con entusiasmo e spirito di collaborazione. 10 ufficiali di gara andranno ad aiutare gli ufficiali di gara del Gran Premio di Monza, il direttore e il presidente verranno qui a Caltanissetta in occasione della gara, una delegazione di Caltanissetta verrà invitata al Gran Premio. Poi un'altra delle iniziative, per un paio di mesi ci verrà concesso dall'aeroporto di Catania di esporre un'auto storica che parteciperà proprio al campionato di auto storica all'aeroporto di Catania. Verrà rievocata quindi, anche se con un solo giro invece che due, la prima Coppa Nissena. Con partenza da Caltanissetta in via Siboli e poi si scende al contrario verso la Coppa Nissena e si dirige verso Enna, dove quest'anno però abbiamo inserito una novità, un giro in pista per gli equipaggi a Pergusa che ci ospita. Dopodiché riprendiamo la strada per Enna Bassa e risaliamo verso Villa Rosa, dove ci sarà un controllo a Timpro di tutti i partecipanti e si continuerà per Santa Caterina. Stessa cosa a Santa Caterina, un controllo a Timpro, dopodiché ci dirigeremo a Caltanissetta, dove ci sarà l'arrivo a Santa Barbara. Stessa cosa a Santa Caterina. Grazie.